Vi volevo chiedere, proprio alla luce anche del fatto che la UE non sta rinnovando il contratto con AstraZeneca, ma se io adesso decido di fare AstraZeneca, il prossimo anno, pensando che ci si dovrà vaccinare nuovamente, come farò? Nel senso, posso cambiare il vaccino che AstraZeneca è avvettore virale e invece il prossimo anno magari farne uno in mRNA? Che bella domanda Paola, sono molto curiosa di sentire la risposta, professore? Domanda difficile, risposta difficile. In effetti cosa accade? Accade che se io faccio prima e seconda somministrazione AstraZeneca, era perfettamente valido. Il problema sarebbe se io facessi la prima somministrazione AstraZeneca e poi una seconda somministrazione con un vaccino a RNA. E quello è un problema, alcuni paesi lo hanno accettato, non abbiamo dati scientifici sufficientemente che possano garantire l'efficacia di cambiare prima e seconda somministrazione. Se invece la signora si preoccupa, io faccio prima e seconda somministrazione AstraZeneca quest'anno... E l'anno prossimo faccio Pfizer, lo posso fare? Tanto il prossimo anno, se ci dovessimo vaccinare di nuovo, cambieranno i vaccini, io posso vaccinarmi con un altro tipo di vaccino, non c'è ombra di dubbio. Probabilmente andremo, come sta dicendo la signora, con una terza dose da qualche parte, ma di un vaccino diverso. Grazie professor Morrone, grazie professor Cartabellotta.